Movimento ragazzi Movimento Fiii Hau andiamo su, sì buono, buona portate così la spalla a sinistra, porta la spalla a sinistra verso di me sì, buono andiamo su, si va bene, da vedi la spalla a sinistra che me viene mezzo di me, mezzo il pallone andiamo su, eh, mezzo il pallone, sì va bene dai, porta la spalla verso di me, andiamo su, sì, buono, sì, la spalla verso di me andiamo su la spalla verso di me si va bene hai impazzato male il pallone vai giù spalla verso di me se io vado a vedere adesso il video c'è il piede centrale vai verso la palla non mettere il piede centrale andiamo il piede là e spalla là continuano attaccando continuano attaccando continuano attaccando la testa è in avanti bravo la testa è in avanti bravo bravo bravissima testa è in avanti bravo 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 ottimo vai andiamo su bravo ottima ottima bravo anche la testa andiamo su andiamo su ok buona questa spinta più che altro mi interessa la tecnica andiamo qui c'è corso arriva con i piedi paralleli fermati e parti pronto andiamo su adesso e non saltare allarga appena appena la postura quando scendi ok fermo 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 lì piega le ginocchia un po' di più stringi il piede destro lì piega le ginocchia andiamo pigi sì ottima buono stop un po' di più Sì, vieni contro, oh! Sì, vieni contro, oh! Sì, vieni contro, oh! Sì, vieni contro, oh! No, vieni contro, oh! Sì, vieni contro... Bravo, di più verso di più, andiamo... Sì, sì, si, sì, vieni contro! Sì, vieni contro! Sì, vieni contro, vieni contro! Oh, c'è forza ancora! Eccolo, vinci! Oh, ecco la tempura! Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo qua! 2-0 la spinta! Eccolo qua! Eccolo qua! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.